Ragazzuoli, ciao a tutti. Tra una cosa e l'altra la giornata di ieri è stata anche una giornata abbastanza importante per la Juventus che è stata vissuta non molto bene dalla maggior parte dei tifosi, soprattutto da quelli che hanno un'età un pochino più matura che hanno più che altro avuto la possibilità di vivere tutte le varie tappe nel corso degli anni proprio perché appunto ieri vuoi o non vuoi si è chiusa una pagina molto importante della Juventus una pagina che dura più o meno da 17 anni a grandi linee da quando è iniziato a cercare di farti valere per quanto riguarda la vicenda Calciopoli e l'ingiustizia che dal punto di vista della Juventus appunto era stata ricevuta era stata ricevuta mentre invece ieri di fatto tutto questo è giunto al termine perché la Juventus con il ricorso ritirato chiude ogni qualsiasi tipo di discorso legato a Calciopoli stesso e quindi è tutto finito quantomeno lato Juventus perché sono curiose quantomeno le tempistiche ecco le tempistiche sono molto curiose perché tra pochi mesi Giraudo andrà al TAS e questo potrebbe portare a qualche cambiamento evidentemente dal punto di vista della persona a questo punto non tanto della società che ha deciso di tirarsi fuori con le dichiarazioni di Ferrero e la presa di posizione di Ferrero e della proprietà della Juventus ed ovviamente qui sono sincero io essendo classe 97 tra l'altro dicembre Calciopoli l'ho vissuta e non l'ho vissuta nel senso l'ho vissuta perché ero fisicamente vivo non l'ho vissuta perché un bambino di 8 anni avevo al tempo più o meno estate del 2006 mi pare sì 8 anni sì non è che gli stravolgi la vita ecco con Calciopoli quindi sicuramente non l'ho vissuta come può averla vissuta uno di 40 50 anni anche 35 perché no andando poi sempre più a salire con l'età e la reazione che ho percepito ieri è stata una reazione molto dura molto impattante con tanti tifosi che si sono proprio sentiti traditi dalla proprietà nel momento in cui hanno fatto questa rinuncia con tanto di richiesta ad Andrea Agnelli di ritornare il prima possibile sulla presidenza perché lui non l'avrebbe fatto mai e d'altronde c'è da dire che sicuramente è stato uno che nei suoi anni da presidente della Juventus ha sempre fatto tutto il possibile affinché venisse in un qualche modo riaperto il discorso Calciopoli cosa che invece non solo non è stata fatta ma proprio si è chiusa e io però mi sento più che altro da dire di dire una cosa un pochino a difesa tra virgolette della dirigenza oltre al fatto che di per sé non me ne frega un cazzo nel senso nel senso se comunque tutte le volte e ce ne sono state tante di volte negli ultimi anni in cui tu hai fatto un tentativo un ricorso per un motivo o per un altro e puntualmente t'hanno sbattuto la porta in faccia puntualmente hanno deciso di non decidere mai perché probabilmente decidere di decidere avrebbe portato a tanti cambiamenti ed è molto difficile andare in totale contrapposizione rispetto a ciò che era stata la decisione magari di un ulteriore giudice di un giudice differente si fa fatica ad andare completamente contro al pensiero di un altro giudice e questo magari anche abbastanza facilmente ti può portare a decidere di non decidere e una volta che te lo fanno una, due, tre, cinquecento volte ci può stare che a una certa capisci che bene o male per l'ennesima volta accadrebbe la stessa identica cosa e quindi dici di rinunciare qualcuno facendo un discorso non un pochino complottistico ci mancherebbe però vedendoci un pochino di dietrologia dietro tutto ciò ha pensato che magari il discorso legato alle plusvalenze in particolar modo ovviamente il patteggiamento fosse riferiti in qualche modo anche no a tutta questa situazione qui magari loro ti fanno un favore da una parte tu gliene fai un altro dall'altra ma onestamente non so neanche sinceramente quale tipo di correlazione precisa possono avere le due cose però l'ho riportato giusto perché l'ho letto ecco senza dire anche secondo me così perché sinceramente non saprei proprio sinceramente proprio non saprei e più che altro nulla vuoi non vuoi non dico che sia finito un'epoca ma più o meno è l'unica cosa anche che si potrebbe anche tranquillamente dire senza particolare tipo di smentita nel momento in cui anche in questo caso ci sono delle sentenze che parlano abbastanza chiare e che fa strano sapere no che calciopoli quella che sarebbe stata quella che sarebbe dovuta essere più che altro la giustizia del calcio italiano per ripulirlo il più possibile è andata di fatto a premiare una squadra che col senno di poi si è venuta a sapere che era sporca di merda esattamente come tutte le altre anzi se ci aggiungi anche il fatto che è stata l'unica differenza di tutte le altre a non pagare mai probabilmente è quella sporca ancor più di merda di tutte le altre e di fatto con la rinuncia di ieri accetti che una squadra che non si meritava minimamente di avere uno scudetto in più ebbene sì ce l'avrà e continuerà a disporlo tra le altre cose come il più bello della loro storia e da un certo punto di vista ricapisco anche sicuramente non è facile arrivare terzi rubando e nonostante tutto vincere uno scudetto quindi posso capire che possa essere visto come quello più bello della loro storia ci mancherebbe altro però questo è e dallo stesso tempo anche i tifosi juventini hanno detto quindi sempre con la coerenza della presidenza della juventus che ha deciso di non procedere più che non di non procedere più e quindi accettare tutto ciò che è accaduto negli ultimi 17 anni adesso nel momento in cui accetti devi modificare anche il numero che c'è all'ingresso dell'Allianz Stadium perché molti anche in modo un pochino provocatorio hanno posto questa domanda qui e che ci sta alla fine nel momento in cui tu in primis accetti ci può stare riprendere anche le parole di Agnelli che diceva questa è casa mia e nel mio salotto metto quello che mi piace di più per l'amor di Dio però almeno Agnelli da quel punto di vista ha sempre combattuto perché riteneva tutti gli effetti della juventus quegli scudetti e in ogni sede opportuna ha cercato di far valere il più possibile questo concetto quella nuova no nel momento in cui che poi oddio quella nuova no di fatto anche prima se vai a vedere era Elkan che comandava magari Agnelli sicuramente aveva più potere più rilevanza di Ferrero che palesemente un uomo di Elkan ma bene o male non che la proprietà sia cambiata nel corso degli ultimi anni è cambiato il presidente ed è cambiato probabilmente anche a tutti gli effetti il bene nei confronti della juventus che determinati personaggi magari prima avevano un pochino di più rispetto a quelli attuali così giusto ovviamente per dire per fare una velocissima riflessione né più né meno e però questo è è veramente ne ho visti tanti legittimamente secondo me che ci sono proprio rimasti male di fronte a questa cosa soprattutto poi quando era stato accolto un qualcosa a Giraudo che poteva creare i presupposti per delle cose che sarebbero potute cambiare che probabilmente lato Giraudo potrà comunque accadere probabilmente anche proprio lato Mogi lato Juventus vedremo vedremo non è da escludere categoricamente ma con ciò che è accaduto ieri probabilmente anche sì magari voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve grazie a tutti Grazie a tutti